Situazione centro-sinistra, Partito Democratico ancora non definita, dopo una speranza nel Rettore Luciano D'Amico nella proposta di candidarsi la defezione, pur ringraziandovi, qual è l'alternativa? Come vi state organizzando? No, nel Rettore noi ci avevamo parlato già da oltre un mese, diciamo è stato l'ultimo tentativo fatto ieri ma già sapevamo da oltre un mese che ci avrebbe detto di no per diverse situazioni e va rispettato il suo pensiero quindi è giusto così. Questa sera incontreremo un po' l'eventuale coalizione, vedremo anche i civici quindi Giovanni Cavallari, Gian Guido Alberto, Sinistra Italiana, vedremo di incontrare tutti quanti statera faremo la sintesi e speriamo di poter stare insieme. Noi rilanciamo sempre le primarie noi siamo per le primarie, ovviamente non avendo più tempo cercheremo di chiudere questa settimana ormai basta in questo modo, vedremo di fare sintesi su una persona oppure se ci sono ulteriori candidati vedremo di fare sintesi per le primarie e poi si chiude in questo modo. Questo è l'auspicio che noi però questa sera dovremmo riuscire a chiudere. Allora tutti parlate di fare una sintesi, cercare un candidato però non c'è nessuno che in realtà vuole retrocedere e c'è anche il rischio che il centrosinistra vada spaccato. Sì, è possibile questo. Io ovviamente auspico, spero di no, spero che non sia così però c'è questa possibilità. Se dovesse essere così e nessuno fa un passo indietro o comunque nessuno vuole partecipare ai primari non fa niente. Il Partito Democratico troverà una persona o farà un gruppo diciamo nuovo e se ricomincia, pazienza, sarà così quindi non vediamo alternative rispetto a questo. Io spero di no, spero che insomma ci sia la consapevolezza che se andiamo tutti insieme allora ci giochiamo una partita a mio giudizio e possiamo ancora dire la nostra. È chiaro che se andiamo divisi ognuno pensa a sé anziché pensare al centrosinistra allora ci sarà un problema.